Ma io ero così convinto che avrebbe vinto che ero disposto a correre un rischio enorme. Se la McLaren non è la più veloce, potete demolirmi la casa. Cosa? Demolirla. Casa tua? Sì. Sono sicuro che sarà la più veloce delle tre. Sicuro? Lo sai che lo faremo? Sì. È una scommessa? Sì. Va bene. Va bene. Se non è la più veloce, sì. Possiamo demolirti casa. Sì. Sapete dov'è? Ci siete stati. Sì. Mi piacerebbe demolirla. Eccoci. C'è molto in ballo. 235,9 è la più veloce alla fine del rettilineo. Venite a cena a casa mia? Sì. Posso portare una ruspa? 188,3. Sei preoccupato? Non è poi così veloce? È piuttosto veloce. Non sappiamo quanto stia andando veloce nelle curve strette. Forse andava a due chilometri orari. Dove? Fuori pista. Con questo torniamo alla penda. è piuttosto veloce alla fine del rettilineo. Sì. Sì.